Club Sportivo Urania festeggia il poker Roberto Moscatelli ancora qui a fine novembre a celebrare una stagione indimenticabile. Sì, è stata un'ottima stagione anche quest'anno, è stata dura perché quando si parte da vincente l'anno precedente si ha delle responsabilità. Comunque ci siamo riusciti fino all'ultimo a tenere la testa nella classifica e abbiamo vinto anche quest'anno per il quarto anno consecutivo la classifica nazionale. Un titolo italiano e tanti risultati di prestigio. Sì, quest'anno diciamo che abbiamo fatto molto di più podi, forse meno di qualità anche se comunque i livelli sono alti, quindi abbiamo fatto un primo posto e una decina di podi comunque. Quindi diciamo che il livello è sempre alto anche se non spicchiamo nei primi posti quest'anno rispetto all'anno scorso. Comunque non è stato facile, ogni anno il livello sale e rimanere al passo non è proprio da tutti. 70 atleti, 10 allenatori, numeri che certificano uno stato di crescita. Sì, più che uno stato di crescita ho una voglia di continuare a fare bene. Sui 70 atleti sì è uno stato di crescita e cerchiamo di mantenere un po' il livello di tutti gli anni. Partiamo in tanti, poi magari si arriva a una trentina a fare le gare d'estate. E sui 10 allenatori invece è una cosa importante, perché vuol dire che la passione tra tutti noi continua, vuol dire che la volontà di impiegare i nostri tempi liberi a questa struttura, a questa società, ai ragazzi, c'è sempre in tutti. Quindi tutti quanti con i sacrifici, i salti mortali riusciamo comunque a portare avanti questa società. Cosa bolla in pentola per il 2018? Quest'anno ripartiamo, abbiamo una bella squadra, abbiamo una squadra molto rinnovata, era già rinnovata l'anno scorso, quest'anno è ancora più rinnovata, quindi un sacco di innesti nuovi, tutti giovani. Quindi ci sarà sì, le due, tre, quattro pedine importanti che abbiamo tutti gli anni, però ci sarà da amalgamare la squadra con questi nuovi innesti. Quindi sarà un anno difficile, ma comunque intenso, proprio ricco di soddisfazioni, proprio se riusciremo a fare bene. Guido Diaguardi, si poteva immaginare soltanto sei o sette anni fa un club sportivo Orania festeggiare per il quarto anno di fila il titolo di Società Prima in Italia? No, con tutte le migliori intenzioni direi assolutamente no. Con l'andare del tempo la cosa si è un po' materializzata e l'abbiamo vista avvicinarsi. Ora, vincere, sinceramente, quattro anni consecutivi forse sarebbe stato un bellissimo sogno all'inizio e che però si è avverato. C'è alla base di tutto un'organizzazione che funziona, una macchina che anno dopo anno migliora? Mi piace più che chiamarla macchina, mi piace richiamarlo gruppo. C'è un gruppo di adulti ormai, qualcuno molto adulto, che si dà da fare, usa, come diceva prima Roberto, usa un po' una buona parte del proprio tempo libero per seguire questa passione e per cercare di trasmettere la passione ai ragazzi. E i risultati si vedono, si vedono giornalmente. Ragazzi che non trascorrono neanche una domenica a casa sul divano, sono sempre impegnati in trasferte, più di 30 anche quest'anno? Sì, è vero, non trascorrono neanche una domenica sul divano, si innescano tra le altre cose uno con l'altro, perché sempre quella forza del gruppo li trascina. Quei due che andrebbero volentieri sul divano probabilmente sono trainati dagli altri dieci che li trascinano sul pulmono, sul pulmino, sul treno per andarsi ad allenare o farle gare.